Dalla parte della libertà, la resistenza in Italia e nel mondo. L'artista Camilo Baldeschi partecipa a questa mostra di arte contemporanea con un'installazione molto particolare intitolata Punti di Vista. Punti di Vista ci suggerisce che va vista dall'osservatore da varie angolazioni. Gli si deve girare attorno per comprendere appieno il significato di quest'opera così singolare. Ci spiega l'artista che così come può cambiare la percezione di questa scultura nell'osservare da una sola anovolazione a disposizione delle palline, altrettanto può accadere per i fatti della vita reale, passati e presenti, come ad esempio il Covid, la guerra o la crisi energetica, spesso volutamente raccontati dalla maggior parte dei media da un unico punto di vista. Ecco perché è necessario girare attorno alla sua installazione. È come doversi documentare a 360 gradi dell'opera e della vita, dell'informazione, perché ciò ci rende più consapevoli, liberi nei confronti dell'informazione che purtroppo è soggetta a manipolazioni. L'opera ci invita a ragionare con la nostra testa, a razionalizzare, filtrare, usare la coscienza insomma, resistere alla valanga di notizie che ogni giorno ci vengono propinati dai media. e anche questa è resistenza.